Dispersione scolastica, baby gang, videosorveglianza e movita fuori controllo. Questi quattro punti principali affrontati questa mattina nella sede della prefettura di Napoli dove il prefetto Claudio Palomba ha presieduto il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Le linee guida le aveva già tracciate il ministro dell'interno Luciano Lamorgese durante la sua ultima visita in città. Tra gli argomenti anche il decoro e la sicurezza della Galleria Umberto. Sul tema videosorveglianze, con il sindaco, ma già l'avevamo in programma, il sistema che stiamo adottando sia per quanto riguarda la Galleria Umberto e per quanto riguarda Piazza Plebiscito, ma lo faremo un po' dovunque, coinvolgeremo anche le associazioni di categorie, i soggetti privati, come avete già sentito, Galleria Umberto, c'è una disponibilità del Presidente della Camera di Commercio a finanziare i sistemi di videosorveglianza. Sulla Galleria Umberto stiamo marciando e di questo ringrazio ovviamente il sindaco perché vorremmo arrivare presto a una definizione. Durante il suo intervento poi il sindaco, Chetano Manfredi, ha confermato le discrezioni apparse sulla stampa in questi giorni sui nuovi orari della Movida e sulla stretta degli orari su bar e locali che c'è da scommettere, scontenterà sia i giovani che gli imprenditori del By Night. Abbiamo preparato un'ordinanza, che è un'ordinanza di urgenza, che interverrà su una serie di punti e che sarà efficace dalla prossima settimana. Una regolamentazione degli orari, noi provvederemo a una chiusura alle due durante il fine settimana e all'una durante la settimana, l'interruzione della musica a mezzanotte e un'attenzione particolare poi alla pulizia degli spazi di prossimità degli esercizi e anche poi un intervento di divieto, di vendita di sostanze alcoliche per quelli che sono poi tutti gli esercizi di prossimità, super market, negozi alimentari e così via, perché sappiamo bene che spesso l'alcol viene acquistato presso questi locali.